Ci siamo amici di CryptoNFT Italia, io sono il vostro caro amato Ryan, esperto di Terra Luna Classic e oggi abbiamo ufficialmente i risultati del barn di Binance. Binance ha bruciato in questo ultimo mese miliardi di Terra Luna Classic. Vi do già questa piccola chicca. Benvenuti su CryptoNFT Italia. Naturalmente ragazzi vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanellina di tutte le notifiche per non perdere altri contenuti come questo. Vi ricordo anche che abbiamo uno straordinario sito web dove potete visionare i progetti migliori per quanto riguarda il mondo NFT. Detto questo direi di addentrarci subito all'interno della notizia e commentarla assieme. Tra l'altro non so se avete visto, Binance, perdonatemi, Terra Luna Classic ha avuto un pump dell'11,1% nelle ultime 24 ore. Questo sta a significare naturalmente che la tax barn sta portando i risultati. Sta portando i risultati a quelli che è gli occhi della community. In questo momento abbiamo un'offerta circolante totale di 5 milioni, 980 miliardi eccetera eccetera e quindi abbiamo finalmente rimosso il 6 e siamo passati al 5. È già un passo in avanti. Molto molto positivo visto anche quello che il mercato che stiamo vivendo, un vero e proprio bear market. Io dico solo immaginate cosa succederà durante il bull market. Ci divertiremo cari amici sostenitori di Terra Luna Classic. Andiamo anche all'interno di Terra Rarity e vi voglio far vedere che fino ad ora sono stati bruciati ben 35 miliardi di Terra Luna Classic. E quindi questo è il risultato totale. Tra poco vedremo quello di Binance ma vi voglio far vedere anche cosa sta accadendo. A USDC dove dovrebbero essere stati bruciati più o meno un 11 milioni di USDC. Attualmente è un prezzo di 0,0227 e quindi anche USDC ha avuto un pump del 7,5%. Niente 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 male. E a questo punto ragazzi vediamo anche quello che sta succedendo alla nuova Terra Luna. La Terra Luna 2.0 come molti amano chiamarla, 1,67 USD ha avuto un pump del 4,5%. Quindi diciamo che tutto l'ecosistema Terra ha avuto un pump e questo è molto positivo. Detto questo ragazzi andiamo a visionare quello che è il risultato. Però prima di visionarlo lasciate un commento. Se ancora non avete visto il risultato, come spesso accade siamo tra i primi ad arrivare in questo caso. Lasciate un commento e diteci, prima di andare avanti, quindi stoppate il video, lasciate un commento e diteci secondo voi quanto ha bruciato Binance nell'ultimo mese di Terra Luna Classic. Quanti miliardi? 1, 2, 3, 6, 10, 15, 20? Lasciate un commento così poi vediamo se avete indovinato. Direi però di addentrarci all'interno della notizia. Questo articolo come potete vedere ci dice Binance. Questo annuncio è stato aggiornato l'ultima volta l'1 dicembre 2022 per riflettere le modifiche agli ultimi record di masterizzazione e le regole di meccanismo di masterizzazione. Parliamo della Tax Barn che ricordo non è più all'1,2% ma da un mese a questa parte allo 0,2%, un mese e più. Andiamo qui in basso ed ecco che abbiamo il risultato. Dal 30 novembre 2022 a mezzanotte alle 23.59 e 59 secondi del 29 novembre 2022 Binance ha bruciato in totale 6 miliardi 389.199.628,21 LUNC Terra Luna Classic per un controvalore di 1.189.861,74 USDT quindi diciamo 1.200.000 dollari di controvalore bruciati e inviati all'indirizzo di masterizzazione dove vi ricordo che se andate a cliccare avete la possibilità di vedere il movimento per vedere che è vero la veridicità e in questo periodo ci serve sapere che è vera questa transazione avvenuta con successo 20 ore fa. quindi ragazzi è ufficiale che c'è stata una nuova Tax Barn ok e adesso attendiamo allora innanzitutto ce ne sono state 1,2,3,4,5 questa è la sesta e adesso attendiamo la settima naturalmente faremo un video di aggiornamento che va dal 30 novembre 2022 quindi già siamo all'interno ragazzi della settima al 30 dicembre 2022 e vediamo se iniziamo il 2023 con il botto. se clicchiamo qui possiamo anche andare a visionare quelle che sono state i token barnati e guardate un po' la prima Tax Barn è stata incredibile perché ha barnato ma lì naturalmente c'era anche un po' quelli che erano volumi più alti 5 miliardi quindi una sola settimana ha fatto quello che è stato fatto adesso in un mese ma questo è un problema di mercato ragazzi non solo di Terra Luna Classic la seconda siamo arrivati quasi a 3 miliardi e quindi diciamo che siamo 6 e 3 siamo a 9 la terza siamo arrivati a 2 miliardi e mezzo e quindi ci stiamo avvicinando naturalmente a quello che è poi il risultato che sono 20 miliardi la quarta siamo arrivati a un miliardo quindi è calata di molto e la quinta praticamente anche un miliardo e 2 questi sono i token bruciati di Terra Luna Classic e questo 6 miliardi e 3 naturalmente la prima è stata la migliore perché in una sola settimana comunque più che in una sola settimana hanno tipo 10 giorni 5 miliardi straordinari comunque ragazzi siamo arrivati alla fine di questo video e vi rinvito nuovamente a iscrivervi al canale attivare la campanellina delle notifiche per non perdere straordinari contenuti da parte di Ryan per quanto riguarda anche Terra Luna Classic e il mondo cripto ci vediamo in un prossimo video ciao e a presto